signori salve comunicazione di servizio adesso controllo se e i volumi e tutto ok comunicazione di servizio signori allora volevo dare questa comunicazione questo video importante per diciamo il futuro prossimo al canale perché insomma stanno arrivando un po di cose stanno arrivando un po di novità cioè penso sappiate meglio di me diciamo le prossime le prossime settimane saranno e saranno come posto di foriere di tante novità di un cambio generazionale che comincia di fatto fra un po diciamo queste settimane e diversi cambi diverse cose stanno arrivando anche per questo canale qua ora avete visto diciamo finito una volta finito ghost sushi ma i suoi spazi sono divisi diciamo gli altri giochi c'è death stranding neo 2 e final fantasy 7 remake che speravo che finissero prima almeno final fantasy 7 remake e death strand pensavo finissero prima non non è così vabbè ce li porteremo mi sa ancora per un po comunque allora diciamo che fino a questa settimana ovviamente tutto andrà come è andato è andata anche la prossima settimana diciamo inizierà più o meno della stessa maniera stessi giorni diciamo per quanto riguarda final fantasy 7 eccetera gli altri giochi per quanto riguarda la parte storie perché intanto sto parlando della parte storie ovvero vedrete lunedì final fantasy 7 remake il martedì neo 2 mercoledì death stranding poi e poi 29 o il 30 dipende da una serie di cose portano un gioco che uscirà il 29 stresso watchdogs legion watchdogs legion è un gioco che mi ispira tanto un gioco che voglio portare gioco che durerà anche tanto e che diciamo si prenderà un po dei spazi degli altri giochi io vi dico quando uscirà quando uscirà watchdogs legion gli altri tre giochi final fantasy 7 remake neo 2 e death stranding vedranno uno spazio ridotto a una volta a settimana perché per dare più spazio possibile in slot appunto watchdogs legion che già la prossima settimana vedrà allora tutto dipende da cosa se riesco a farlo per tempo vedete addirittura il primo gameplay proprio al day one giorno 29 ore 19 primo gameplay di watchdogs legion se riesco a fare tutto per tempo se riesco a fare insomma a corto il tempo riesco a fare tutto primo gameplay già lo vedete se non riesco a farlo giorno 29 il primo gameplay sarà giorno 30 per quanto riguarda watchdogs legion io contavo avevo un'idea allora intanto premesso prossima settimana se ce la faccio anche giovedì 29 venerdì 30 e anche venerdì 30 alle 19 sabato 31 alle ore 13 e domenica 1 novembre alle ore 19 tutti questi slot saranno occupati da watchdogs legion per iniziare insomma ma belli spinti con col bot diciamo e poi dalla prossima settimana il calendario sarebbe il seguente lunedì fire fantasy 7 remake ore 19 poi martedì watchdogs legion come anche il mercoledì sempre sia martedì e mercoledì sempre 19 poi al massimo direi giovedì 29 giovedì eventualmente neo 2 watchdogs legion il venerdì sempre alle 19 il sabato quel punto come programma settimanale normale sarebbe per settimane poi death stranding alle ore 13 e poi di nuovo la watchdogs legion la domenica alle ore 19 cioè la watchdogs legion vedrebbe il martedì mercoledì venerdì e domenica diciamo alle 19 a meno che questo e questo chiedo a voi consigli diciamo nei commenti se piace l'idea io pensavo il venerdì a un certo punto la mia idea di invece di fare la puntata per registrata alle 19 il venerdì fare dopo cena live fare una gameplay live magari anche un po' più lungo diciamo rispetto alle puntate diciamo normale normali sempre che io ci riesca con tutto crocchio quasi riesco a farla funzionare bene farla live ora in questo caso però purtroppo non sarebbe la 19 sarebbe dopo cena ecco orientativamente per le 9 se ci riesco magari anche a qualcosa prima ma orientativamente per le 9 e in tutto questo io consiglio per tutto questo e tutte qualsiasi informazione eccetera consiglio sempre di iscrivervi al canale telegram dove io posto i video nel caso non vi arrivano i feed dove posto i video per vedere dove posto qualsiasi tipo di notizia qualsiasi tipo di cosa giusto per stare aggiornati non ci sarà nessuno spam di cose continue eccetera non vi preoccupateci non solo io e il canale mio telegram solo io che comunicherò tutto quello che c'è da comunicare tramite il gruppo telegram quindi consiglio sempre iscriversi al gruppo scusate al canale telegram link lo trovate in descrizione e comunque questo per quanto riguarda la parte storia è questo c'è prossima settimana quattro giorni in fila watchdogs legion per poi dalla settimana successiva si passa a quell'ora che ho detto prima ovvero watchdogs legion martedì mercoledì venerdì e domenica ore 19 poi fire fantasy 7 remake lunedì a 19 neo 2 giovedì a 19 death stranding sabato alle 13 questo quanto riguarda le cose storie la parte storia diciamo tutto questo fino al 19 di novembre lì a quel punto cambierà tutto perché arriverà cyberpunk cambierà veramente tutto prenderà tanti tanti spazi cyberpunk poi vi comunicherò meglio nel dettaglio ma insomma arriverà quasi a monopolizzare il canale almeno per un po di tempo c'è un gioco col quale punto tantissimo un gioco che non voglio giocare come ho giocato fino a tutti gli altri come vedete sono un po buttato sull'ignoranza faccio giusto sulla sua principale a modo mio un po scherzo un po un po così diciamo un po scanzonato cyberpunk è un gioco diverso cyberpunk è un gioco sul quale si riproce sta lavorando tantissimo un gioco che merita un'attenzione diversa merita di essere vissuto molto probabilmente in modo diverso sarà un gioco che vivrò in maniera molto più completa del solito vivendo proprio il gioco andando in giro esplorando facendo le secondarie vivendolo proprio tutto per intero e possibilmente cosa che non ho mai fatto per nessun gioco in questo canale se c'è un endgame proseguirò proseguirò anche con l'endgame sempre su su cyberpunk 2077 quindi questo sapete dal 19 all'incirca al 19 di novembre che poi dipende da un po di cose dipende dal fatto se riesco a reperire al day one la ps5 cosa purtroppo non è detto sapete voi sono tutti problemi pronotazioni cose a fare insomma sapete un po quella situazione poi mi impegni e cose insomma un po un casino se ce la faccio dal giorno 19 o pochi giorni dopo si parte cyberpunk superstation 5 lo gioco superstation 5 anche se la versione con retrocompatibilità ok lo so benissimo però casomai poi non ci riesco a valutare un po la situazione comunque più o meno in quella data poi si parte con cyberpunk 2077 che prenderà tanti 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 spazi del canale proprio il motivo che vi ho detto io prima poi altro discorso da fare per i sportivi per i sportivi che però andranno avanti come l'avete visto ovvero usate riprendo la mia agenda perché c'è tutto qua ovvero lunedì e venerdì pes sempre la carriera quella insomma in thailandia martedì giovedì e domenica tutto questo sempre ore 13 perché i sportivi sono tutti ore 13 fifa con questa mini carriera con con la fiorentina mini carriera che terminerà appunto con l'arrivo delle nuove console nelle quali a quel punto io comincerò la mia carriera vera e proprio quella che quella ufficiale di quest'anno che ci porterà fino al fifa 22 ecco per intendersi guarda non non so che mettiamola così mettiamola così pur restando in europa perché resteremo in europa perché l'obiettivo sarà vittoria champions league diciamo che si tornerà alle origini in un certo senso non dico altro o meno le mie intenzioni sono queste vediamo se riesco a farlo e quindi mini carriera della fiorentina andrà avanti fino finchè non arriva la la next gen diciamo scusate se la modificatore sono via comunque finchè non arriva la next gen e e poi pes ce la parlai di pes ce la parlai di pes pes eh continuiamo con pes symbol 2020 finchè non finchè eh non arriva un altro gioco a sostituirlo quel gioco sarà football manager 2021 anche se non è detto che comincerò non è detto io cominci la carriera proprio all'uscita di football manager 2021 questo perché perché non so ancora non so ancora se eh football manager per com'è ha quello che mi serve per fare ciò che voglio fare io nel caso di batte non ce l'avesse ok dovrò attendere o cercare attendere una mod che mi consenta di farlo ecco no anche qua non anticipo nulla non dico niente dico soltanto che a modo mio voglio voglio in un certo senso raccontare riprendere far ripartire diciamo una bella storia di calcio che secondo me si è interrotta troppo presto non dico altro e non dico altro non dico altro e e quindi questo ripeto PES eh i slot suoi che ha occuperà quei slot appunto del lunedì e del venerdì ore 13 finché non sarò in grado in condizione con ehm football manager 2021 di fare ciò che voglio fare va da sé che se questo football manager football manager 2021 ha di suo di base ciò che scusate ciò che a me serve per fare quello che voglio fare si partirà a lancio quasi cioè giorno dopo giusto i tempi tecnici di registrare montare eccetera ecco se ce l'avrà se non ce l'avrà si aspetterà un poco aspetto che potermi sistemare come voglio sistemare vedrete vedrete questo è tutto credo che questo sia tutto per quanto riguarda aggiornamenti per il vostro futuro per il canale quindi ricapitolando watch talks legion da uscita 29 ottobre se ce la faccio già lo porto già a partire dal giorno d'uscita altrimenti partirà il giorno dopo il venerdì magari in diretta perché la mia idea e chiedo a voi consiglio il venerdì è di farlo in diretta ok farlo in diretta magari farlo dovrà anche di più comunque in diretta diretta sempre su questo canale youtube lo so c'è quell'altra piattaforma viola o anche il profilo c'è avrei che canale la piattaforma viola il problema è che in questo momento non voglio ho bisogno di tener tutto qua in questo momento per ora gestire anche la piatta quella piattaforma lì viola mi viene un po' troppo complicato assieme a questo quindi comunque tornando a noi watch talks legion dal 29 o dal 30 dipende da come riesco a combinarmi monopolizzare il canale fino a giorno 19 più o meno di novembre giorno in cui oltre alla nuova console arriverà cyberpunk 2077 a quel punto sarà cyberpunk 2077 a prendersi più spazi possibili da tutti gli altri giochi e si andrà avanti con quello per motivi che ho citati sui sportivi fifa 21 mini carriera fiorentina fino all'arrivo delle nuove console con le nuove console si inizierà la nuova ufficiale la carriera ufficiale proprio in questo canale su fifa 21 quella che ci porterà alla fine del ciclo vitale di questo gioco cioè fino all'uscita di fifa 22 e poi pass va avanti fino all'arrivo di football manager 2021 con ciò che mi serve per fare ciò che voglio fare spero che sia tutto così tutto chiaro spero che ciò che arriverà sia di vostro gradimento dovevo fare queste doverose precisazioni perché altrimenti si sarebbe visto un po' di casino e probabilmente non ci avreste capito nulla spero di essere stato chiaro se non è così commenti qui sotto chiedete domande pure fate tranquillamente consigli qualsiasi tipo pure qui come nei commenti e critiche qualsiasi cosa commenti commentate sull'idea di fare una volta a settimana Watch Dogs Legion in live sempre il canale YouTube ditemi voi cosa ne pensate sempre nei commenti qui sotto e signori detto questo possiamo salutarci qua e darci appuntamento alla prossima a e a a a a